ciao a tutti ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale clic gratis su iscriviti iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina io sono già immerso nel calcio ho avuto una discussione con Chris di clan interista che saluto e parlavamo anche lui è uno che seguiva molto il campionato argentino e voi mi direte Giuseppe ma a quest'ora è già parlare di calcio certo io anche la notte sogno in calcio e parlavamo di palacios eh fondamentalmente ehm lo voglio fare lo voglio fare ragazzi c'è un giornalista che ieri sera ha dichiarato testuali parole ovvero sia la priorità di non è quella di rinforzare la squadra ma è quella di recuperare i crediti da ogni parte del club per risanare i conti e per vendere il club nel più breve tempo possibile bravo tre sei accorto anche te complimenti meno male ci hai aperto gli occhi non l'avevamo capito ci sta dai sei arrivato dopo la banda come si dice comunque a parte questo il momento che sta di pulizia finanziaria e sta attraversando l'inter dove ovviamente non hai messo dei tetti ingaggi ma qualche paletto ci deve essere sappiamo tutti che Optri sta facendo un ottimo lavoro di pulizia conti anche se secondo noi nemmeno il prossimo anno riusciremo a chiudere con un bilancio in positivo soprattutto perché i bilanci stavano migliorando grazie alle plusvalenze che quelli sai sono dei dati drogati perché poi fondamentalmente riesce a migliorare il bilancio con le vendite con le plusvalenze ma devi migliorare in un'altra maniera comunque meglio di nulla va bene anche così Optri ha messo dei paletti seguimi bene perché l'è importante perché la gente sta rompendo i coglioni molti stanno rompendo i coglioni su Palacios che è un giocatore che a me pur conoscendolo poco piace tantissimo a pelle ma seguendo il Boca Junior per caso ho visto giocare questo ragazzo del campionato argentino ovviamente nella sua squadra dove ha fatto ventitré presenza dal titolare tre gol e anche qualche assist i paletti di Optri sono no trentenni sappiamo tutti che a noi serve un centrale pronto su quello ragazzi non ci piove lo sappiamo tutti però ricordiamoci anche una cosa Hermoso Hermoso qui non lo vuole perché secondo loro è troppo vecchio ricordiamoci una cosa volevamo prendere Bremer e ci hanno sciolato ci serviva Buongiorno e non non siamo in grado di spendere tutti quei soldi per prendere Buongiorno infatti non c'è stata nemmeno un' offerta per Buongiorno con tutti quei soldi ma quando Bremer prende il Torino io voglio dire ma chi era Bremer? Bremer pesca il Torino pesca Bremer dal Fluminense che non lo conosceva nessuno che aveva fatto una ventina di presenze e non tutte la titolare il Torino prende Bremer dalla Fluminense per 5 milioni ed era un giocatore che non conosceva nessuno anzi scusami dall'Atletico Mineiro lo prende non dalla Fluminense mi sono ricordato aveva fatto ventitré presenze non tutte la titolare e il Torino lo paga 5 milioni in base ai dettami poi di Ocri sappiamo tutti che ci dobbiamo adeguare però quante volte eh ma l'Inter non fa più scouting l'Inter non fa più scouting l'Inter non fa più scouting l'Inter poi l'Inter fa scouting prende questo ragazzo a 6 milioni e mezzo dal campionato argentino e non va bene allora ragazzi mettiamoci l'accordo Fontana Rosa e a me comunque piace piace però l'ho detto l'altro giorno per come la Fontana Rosa no no non è meglio Fontana Rosa perché Fontana Rosa è andato a Cosenza è vero che ha fatto ventitré presenze ma guarda quante volte ha giocato titolare questo è un ragazzo che ha ventiquattro presenze da titolare nel campionato argentino questo è un ragazzo che sull'uomo ci va è bravo nelle scivolate è bravo nel posizionamento ha anche un ottimo dribbling per essere un difensore ha un lancio di 40 metri e ha fatto anche tre o quattro gol quindi questo può essere veramente un colpaccio maicon quando arriva dal Monaco chi lo conosceva tranne Guidolin c'era Guidolin ai Monaco tra le oggi cioè soprattutto in questo momento e ora mi vengo al punto soprattutto in questo momento questi sono colpi che devi fare li devi fare ma poi deve essere l'allenatore bravo ad adeguarsi perché sappiamo tutti che in Zaghi è ogni giovane non è che ci vada tanto d'accordo per quello riguarda poi il campionato argentino e parlavo sempre con Chris di clan intervista stamattina che io seguo e lui segue è vero che è di un livello sotto quello italiano ma il signor De Rossi se vi ricordate bene quando va al Boca Junior dice ragazzi io i primi mesi non ci ho capito nulla non riuscivo a prendere nemmeno una palla quindi un campionato tanto scarso quello argentino ti garantisco che non è perché tra l'altro a differenza di quello italiano lì i talenti argentini vengono fuori continuamente quindi si fa scouting e non va bene non si fa scouting e non va bene in un momento del genere concludendo il discorso con i dettami che ci sono da parte di occhio ti devi fare questo ovviamente l'allenatore si deve connettere con i dettami con l'idea di questa proprietà che ormai abbiamo capito tutti te l'hanno detto anche ieri sera di passaggio ma anche l'allenatore si deve connettere deve avere più il coraggio nel lanciare i giovani questo sì sono d'accordo con voi però ragazzi ho capito puntualizzare analizzare però se si fa scouting non va bene se non lo fai non va bene ripeto mai con chi era bremer chi era quando è arrivato in torino gudmuzzo quando è arrivato ai genoa chi era devi avere devi fare solamente una cosa devi avere il coraggio di farli giocare quello penso io la mia idea ma se non rischi in un momento dove non puoi spendere ma quando diavolo rischi ripeto è lì che si deve adeguare l'allenatore mi raccomando iscrizione al canale gratis portate amici fateli iscrivere condividete il canale e il link del canale l'inter club e con tutti gli interessi che conoscete se vi fa piacere altrimenti va bene uguale ciao ciao